Ti hai già preso l'applauso immagino. Esatto, loro hanno già fatto la presentazione. Certo, certo, è acceso. Ma quindi la domanda è d'obbligo, chi ve l'ha fatto fare? Vabbè, rispondi tu. Ma ce l'ha fatto fare il fatto che abbiamo tante persone che ci hanno messo in evidenza questa dinamica, cioè che non riuscivano più a capire perché fino a quel giorno avessero creduto che dal lavoro nasceva tutto il senso della vita. Allora abbiamo deciso di studiare, di approfondire il tema e ci siamo resi conto che c'è un percorso che va avanti nei secoli e che si è sviluppato soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, che ci ha portato a vivere un lavoro che fondamentalmente non libera l'essere umano, che non riempie di senso e che in realtà svuota la vita. Esatto, svuota la vita e ti senti sottovalutato magari anche in un lavoro che non ti gratifica, un lavoro che ti porta via tanto tempo dai tuoi hobby, dalla tua famiglia, dalla tua vita privata. Come si può fare? Quale è secondo voi la soluzione? Alcuni propongono la settimana di lavoro più corta, di quattro giorni che molti paesi stanno anche provando. Qual è la vostra soluzione? Quella può essere una soluzione. Diciamo che è un tema molto complesso, variegato, perché viviamo in un mercato del lavoro che è atipico, nel senso molto diverso rispetto a quello di qualche decennio fa, in cui c'erano certi lavori, ora ce ne sono tantissimi, molto spesso anche nuovi e quindi anche difficili da descrivere. Ma la soluzione intanto è rendersi conto che quest'idea di dover associare il lavoro che si fa al proprio valore è un'idea che molto spesso fa male, ha un contraccolpo molto negativo. Il lavoro ha inglobato tutti gli aspetti della nostra vita, quindi è importante riflettere proprio sulla propria qualità della vita quando si parla di lavoro. Dopodiché delle soluzioni a livello collettivo sono intanto il salario minimo, quindi dei diritti per tutte le persone sotto i quali non scendere. Poi cercare appunto di migliorare anche il ritmo lavorativo, quindi per esempio uno può essere la settimana corta, o comunque proprio il rivedere una certa flessibilità nel lavoro, non nel senso come si dice da vent'anni che bisogna essere flessibili, ma che si può ascoltare di più il bisogno delle persone, perché anche per chi dà lavoro, avere delle persone coinvolte e non esauste, come è il 62% delle persone che lavora oggi in Italia, è importantissimo. Quindi è importante che nell'ambito lavorativo, nell'ambiente lavorativo, le persone possano impegnarsi, lavorare bene, ma lavorare il giusto e sentirsi coinvolte, perché molto spesso la questione è che tu continui a lavorare, ma quel lavoro non ti interessa più, ti porta a una stanchezza costante, sempre più cronica, e quindi poi alla fine lavori male e tutti sono scontenti. Si può migliorare questo stato. Esatto. Come siete riusciti a coordinarvi e scrivere un libro a quattro mani? Questo credo che sia il settimo libro che scriviamo a quattro mani. Ok. Quindi di esperienza ne avete fatta. È stato il primo libro alla fine del quale non abbiamo detto è l'ultima volta che facciamo un libro in Italia. Perché ogni volta succedeva così. Ogni volta succedeva così. Alla fine, anzi, durante la stesura, basta, basta, basta. Non lo concludiamo questo libro. Poi però in realtà ci siamo sempre resi conto che uno più uno non fa due, ma a volte fa tre, quattro, cinque. Cioè tutto ciò che non riusciamo a dire da soli si riesce a raccontare in una maniera diversa se si scrive insieme. Scrivere insieme non è unire le intelligenze e basta, ma è anche creare una relazione con qualcosa che ti supera e con i propri limiti, perché impari a guardarli in un'altra prospettiva. In questo caso scriverlo insieme è stato utile perché ci siamo per la prima volta divisi i capitoli. Ah, giusto. Potrebbe essere un ottimo suggerimento questo. Di solito non lo facciamo. Di solito riscriviamo tutto ogni volta totalmente. Qui ovviamente abbiamo riscritto a quattro mani comunque. Però ci siamo divisi un po' di piccolo. Ci sono dei momenti in cui litigate? Ininterrottamente. Noi non crediamo né nella relazione lavorativa né nella relazione di coppia in cui non si litiga. Per me litigare significa conoscersi. Giusto, giusto. Poi c'è modo in modo di litigare. Certo, assolutamente. Bisogna litigare con il rispetto dell'altro. È un litigio costruttivo. Potersi dire le cose, perché poi scrivere un libro con qualcuno di cui paura, nel senso che appunto non puoi dire dichiaratamente se una cosa non ti piace può essere un grosso problema. Noi ce lo diciamo, siamo spietati. Bello, così un rapporto sincero. Chi è il più preciso? Io. Che segno sei? Io sono Maura. Nel senso che io sono sagittario. Ah, ok. Pensavo vergine, perché di solito i vergini sono molto precisi. No, però sono molto... Ottimo, ottimo. Ha le idee chiare. Ottimo. Io direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti per essere stati qui su Delta Radio o c'era qualcos'altro che volevi chiedere? No, ovviamente. Rovigo racconta cosa ne pensate. Deci medizione. Splendido. Devo dire, Rovigo è una città bellissima. Ogni volta che ci vediamo e ci veniamo, vediamo che c'è una partecipazione attiva transgenerazionale che è una cosa particolare per i festival. Perché i festival sono per i vecchi e sono per i giovani. E invece qui ci sono persone di ogni età. Sì, 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 è molto bello da vedere la varietà delle persone che assistono. Poi, appunto, non è che questo sia indice di chissà che cosa. Però io credo che racconti il fatto che si parla alla città e non si porta qualcosa da fuori alla città, ma è una relazione tra interno ed esterno. Certo. Perché si sente. Ha detto tutto praticamente. Complimenti. Anzi, in bocca al lupo per il vostro futuro e tutto quello che verrà. Grazie Andrea e grazie a Maura. E noi continuiamo qui su Delta Radio. Ritorna la musica di Endry, perché se no si arrabbia.